Perchè, a mani vivi! Eh sì, a mani si va da là! Sì, a mani si va da là! Non c'è più! A mani mi manca per la fila! Domani va a vedere se è una schiocchiera! Ma se è minuto! Sì, davvero! Ma è tutta la mamma! Perchè chi ha fatto? Perchè chi ha fatto? Ah! Sì, tutto! Eccola! Perchè chi ha fatto? Perchè chi ha fatto? Com'è non è allora! Qui ci ha fatto la chita per l'interno della cara?